Oggi parliamo di un libro, parliamo di un libro, ne parliamo spesso di libri, racconto libri, parliamo di libri, era un po' che noi ne parlavamo qui, ne parlo perché con l'urgenza sono andato a presentare il mio libro in libreria, La Luna Storta, come da tradizione ormai da sei anni ho presentato, ho raccontato, ho presentato una sessantina di romanzi alla Luna Storta e è un appuntamento mensile che abbiamo riattivato questo mese dopo la pausa del lockdown in cui ero riuscito a fare Bukowski, Chiroga, così al volo, Sepulveda, avevamo fatto delle cose ma sempre in maniera così un po' frammentaria perché non c'era più la continuità che garantivamo mese per mese negli anni prima. Bene, mentre devo presentare il mio libro, La Taglia di Scaffali ho trovato questo libro qui, Catherine Dunn. L'editore è italiano, romano, si occupa di narrativa dalla seconda metà del 2000, adesso non vorrei sbagliarmi, e comunque da qualche anno si occupa soprattutto di narrativa angloamericana. Il nome dell'editore è un suicidio, 66 and Second, un indirizzo new yorkese a testimoniare la vocazione appunto verso la scrittura d'oltreoceano. perché sto parlando di questo libro? Perché ne è balzato agli occhi, lei è Catherine Dunn, è morta nel 2016, è nata nel 1945 ed è autrice di un romanzo che io ho amato moltissimo, un romanzo quasi sconosciuto in Italia, uno dei 15 romanzi più belli che abbiamo mai letto, si chiama Cuori sgozzati, davvero un romanzo che personalmente mi ha riempito d'entusiasmo, ha scritto tre, credo al massimo quattro romanzi, però è stata per tantissimi anni, prima sulle riviste underground, quindi alla fine degli anni 60, è stata una, eseggeta, la prima testimone donna del mondo della box americano. E quindi ne ha scritto, ha scritto in questo libro, che è il Circo del Ring, ci sono riunite una serie di ritratti che gravitano attorno al mondo delle palestre, della box, del ring, ritratti di campioni noti insieme a personaggi relegati in una marginalità assoluta che li avrebbe visti passare, nascere e morire senza che memoria ne rimanesse se non fosse in queste pagine. bellissimo, rinnova il piacere di Cuori sgozzati, è qualcosa di potentissimo nella narrazione, vabbè, mi andava di parlarvene, così sono un'influenza, è solo che c'evo da leggere. Addirittura ieri, veramente, parliamo, scusate, parliamo di libri, ieri sono riuscito a trovare, era sera, era tardi, c'era un banchetto di libri usati che si stava dismettendo, stava ricaricando tutto sulla macchina, erano le 10 di sera, via Roma, 9 e mezza, 10, lo so, l'ho tratto per 6 euro, questo formidabile cofanetto, sono tutte le storie del West di Salgari, 6 euro, 6 euro per esempio, un regalone, vabbè, per dire, ciava.